Il Viareggio ha ottenuto il secondo pareggio consecutivo in campionato 0-0 con il Fucecchio, Bianconeri con le assenze di Benassi, Bertacca, Morelli e Minichino che cominciano a pesare, ospiti senza il bomber Sciapi, tre gare con pesa la Coppa Italia che il Viareggio non segna. Colpaccio del Camaioli a Cercina dove si impone per 3-0 con le reti di Chiaramonti, Cornacchi e Nardi e costringono la seconda sconfitta consecutiva ai padroni di casa. Il pencio pieno resta solo la Pro Livorno che spugna 2-0 allo stadio degli Olivetti di Massa con le reti di Gini e il raddoppio di Lucchesi. Anche la Real Forte Querceta vince fuori casa e lo fa sul campo della Cuoio Pelli 2-1. Sono i padroni di casa con Turini a passare in vantaggio. Arriva poi il pareggio di Panicucci mentre in pieno recupero è Michi a regalare i tre punti alla squadra di Andrea Cipolli. Pareggio a Ponzacco 1-1 per il Castelnuovo, rete di El Adawi per il giallo-blu e pareggio per il Ponzacco con Crecchi. Sono gli ospiti che alla fine recriminano anche se hanno rischiato la beffa. Il Ponzacco non vince in casa dal 21 dicembre 2022. Mercoledì per la Coppa Italia i giallo-blu recuperano con il Fucecchio in trasferta che ha vinto l'andata 1-0.